Ma va bene, c'è volontà di lavorare. Anche per noi, però rischiamo di non terminare il convivio. Alcune persone che possono tornare a casa stanno lontano, quindi non vorrei creare un sacco. Adesso ho il portatore di Giuseppe Cassio, storico dell'arte, professionale della sua presidenza, il professor Nascimento Prieto. Parlerà della conservazione del patrimonio storico-artistico per la trasmissione dell'identità culturale. Grazie, cercherò di essere molto succinto anche perché hanno parlato anche di bene storico-artistici i miei colleghi, che ringrazio perché sono loro poi aver toccato con mano l'esperienza del recupero e essere stati davvero di più errone perché sicuramente oggi questo patrimonio può essere studiato e restaurato, restituito, valorizzato, è proprio grazie a loro. Io, come storico dell'arte, arrivo quasi nell'ultima fase dell'emergenza e quindi a me tocca un po' guardare in avanti più che guardare indietro. Per guardare in avanti, vi mostrerò alcune slide che ho preparato per guardare anche appunto alcuni beni di accumuli più che di altre zone, proprio per cercare anche di fare un punto su ciò che stiamo facendo per il patrimonio storico-artistico di questa zona. Ben considerando che il patrimonio culturale, infatti uguale per i modi di questo territorio, sono stati recuperati, recuperati e recuperati, presso il deposito che tutti conoscete, il deposito di emergenza dei beni mobili, quella del Sisma, che si trova all'interno della scuola forestale Carabinieri di Città Tocale, che ho l'onore di invitare appunto come responsabile. Come vedete, queste sono ancora immagini del deposito, che sono le opere d'arte, che sono per lo più opere mobili proietti dall'edificio di culto del territorio e grazie appunto a questo deposito è stato possibile non solo schedarla in entrata, quindi capire qual è, diciamo così, il nome e cognome, le principali caratteristiche di ciascun oggetto e nazionale, però insomma il fatto di non avere dei pregressi, si entra ad esempio per studiare opere cumulese, mi sono rifatto al famoso volume di 08 Cappello che è l'unico per eccellenza che ha studiato questo territorio, ma al di là di quello mi devo rifare esclusivamente le caratteristiche che è difficile recuperare perché anche a livello dell'amministrazione inglesiastica questo territorio differiva fino a qualche decennio fa, in quanto non era sotto la posizione della diocesi di Vitti, ma di quella di Ascoli di Cerro, per cui tutta la documentazione precedente a una determinata etica la trovo negli archivi ecclesiastici di Ascoli di Cerro. Gli studi della ricerca però effettuati durante questi ultimi mesi è che avranno dei risultati, vedranno i risultati nella pubblicazione che ha promosso la produzione Marroni, che vedrà la luce delle prossime vestiti da Natalizi e che vede la popolazione di gran parte dei funzionari, delle storie dell'arte, restauratori, archeologi e architetti delle nostre sovrintendenze, hanno avuto più risultati. In particolare uno di questi risultati è quello sulla maniera delle coste che vi anticipo proprio per darvi una sorta di piccola chicca proprio per questo non meglio. La norma delle coste è una tavola che tutti conoscete, che nella sua pace esattuale è il frutto di una manipolazione, di una trasformazione della prima metà del Seicento, probabilmente su qualcosa di precedente. Fino a qualche tempo fa pensavo che fosse qualcosa tipo Piafro, soprattutto perché aveva un affronto importante di una tavola conservata all'albino, che era la Madonna Molte Reale, tra l'altro di cultura cruzese, ci siamo così conto che la tavola, una analisi ravvicinata, presentava un sollevamento sulla zona del Porto della Madonna che ci ha intotto poi ad effettuare ulteriori indagini che sono state recentemente effettuate e hanno scoperto che il volto della patola in realtà non è altro che un tassello applicato su una nuova tavola da parte che appartiene che era però un'icona medievale, un bambino della Fredo 2. Quindi questo però è stato possibile anche grazie all'ausilio di indagini regnofiche e scientifiche, in particolare le indagini radiografiche, l'infrarosse e la fluorescenza in sé che ci ha permesso di andare a fondo e di leggere l'immagine sotto a quella che noi vediamo in superficie. Per il resto abbiamo fatto anche delle indagini intorno alla Madonna di Grisciana, di cui parlava qualcuno prima. Allora Grisciana, ringraziato il cielo, non ha subito grandi danni perché è ridotta in grandi frammenti che sono nient'altro dei frammenti perché purtroppo la Stato aveva già subito una triste vicenda di smontaggi e remontaggi più volte, però più o meno i frammenti che sono stati rinnoverati in città tutale sono rinnoverati di decoltura e quindi diciamo che non avrà bisogno di grandi operazioni se non quelle appunto della ricomposizione ovviamente della struttura che dovrà sostenere. Per cui attualmente stiamo elaborando un progetto non solo di restauro ma anche di studio della struttura che potrà sostenere in modo tale che si possa almeno leggere la sua interezza in qualsiasi posto che si vorrà poi collocare. So che siete tutti molto attenzionati a questa madonnina, lo sono stato anch'io, sono stato fulminato quasi dalla bellezza di questa statua e da momento che grazie appunto agli ultimi, anche alla nostra possibilità data dalla Fondazione Varroni di studiare un territorio per quello che era un aspetto a me molto carico della struttura perché la notte era un po' sabina e sono riuscito a capire che la Madonna di Frisciano, dopo ovviamente varie comparazioni, vari studiati sulla tecnica e quant'altro, riferita alla potega di Sapemino Gatti in realtà va un pochino diciamo così post datata in quanto si riaffaccia molto di più alla tradizione scultoria dei due ferrelli di Monteriale che si chiamavano già come Raffaele, autori di un grande presepe a Campi dell'Umbria che è la loro opera in corno alla quale poi si è costruito tutto un corpus piuttosto importante di opere che si snodano tra Montereale, Riepi, Leonessa e poi tutta la sabina di Berina fino all'arrivata a Lugia Meridionale, ma probabilmente grazie all'operazione con una statua presente dal lese della donna con cesta, penso di poter quasi sicuramente assegnare la statua ai questi due maestri che tra l'altro rispecchiano delle forti somiglianze anche nella fisionomia della Madonna e della stessa donna. Ma nel versaggio che sto scrivendo per questo volume ovviamente do molte altre motivazioni sono di carattere solo stilistico ma anche documentario e quindi vi do, vi creo altro suspense per poi poter leggere anche questi contributi. Agli stessi autori ma anche ai loro precedenti perché dobbiamo pensare che tutti questi autori soprattutto scultori digni che si andavano anche a plastificare le statue dove erano delle linee che quindi si spostavano, questi due erano di Monte Reale ma probabilmente anche loro padre, loro nonno, era uno scultore dove dovrebbe aver realizzato anche l'estate di Tobiano, della valle Castoriana dei Valoni, di Santa Maria delle Grazie e della Tormoni Marchiezza sempre il filone della terra cotta la scultura di Cassino la conoscete tutti si trova nel Museo del Cesare di Rievi, l'ho vista pochi giorni fa nei notti dei condizioni anche lei avrebbe bisogno di una maggiore valorizzazione e per questo stiamo lavorando al Capo Mintesco per cercare di trovare il sistema per rimettere in piedi una sorta di circuito museale e di museo diffuso dell'antica diocesi di Rieti che faccia anche il Capo Mintesco da accumulare a Rievi stessa tutto questo per dirvi che la valorizzazione la si fa non è che il bene del deposito rimangono lì fermi vengono studiati, realizzati, si progettano i restauro, si devono restaurati quindi ci auguriamo tutti che grazie al restauro possano anche essere fluidi anzi che il nostro obiettivo principale è la funzione per quello che riguarda la valorizzazione che vuol dire abbiamo esposto recentemente al Palazzo del Quirinale grazie alla mostra di salvare l'arte del cinquantesimo anniversario dunque il patrimonio tutela di Carabinieri la madonnina di Gorgio Dabi il vicino alla tavola piccola della matrice è stata molto ammirata e è stata anche lì l'occasione per ristudiarla e per riproporla come scultura umbra di inizio 300 poi ecco c'è in corso questo progetto di cui parlavo che vede l'incontro tra pubblico e privato quindi tra Fondazione Varrone e il suo ambientale in speciale per l'arico di razzista la mia sovrintendenza i due comuni per pubblico e matrice la diocesinietica hanno firmato un accordo proprio che vede la possibilità di incontrarsi di creare sinergie forti e strette per sposare alcune iniziative di fondo in particolare per la sezione del volume di cui vi ho ovviamente parlato e che poi succederà a una mostra con un primo numero di opere restaurato nella stessa fondazione nella primavera dell'anno solo del 2020 queste saranno le prime opere che appunto in cui l'anno ripartiranno a breve nei vari restauri ci sarà ovviamente la madonnina di Montiolati che comunque ha bisogno sempre di una revisionata il San Marcello della Chiesa della Misericordia tanto per parlare con i nostri occhi ce ne saranno ovviamente anche molti altri la madonnina che abbiamo ripartezzato delle rose e il famoso San Emilio di San Francesco di Acumuli che per riguarda l'opera singolo in quanto rega tutte le tracce della devastazione subita dal perremoto e in quanto proprio soggetto che subisce ciò per cui dovrebbe proteggere quindi è una cosa molto molto emblematica poi sarà appunto oggetto di restaura la Santa Germana di Fui-Grac e la Madonna di Boccio Dabi scusate la Madonna delle Coste ed infine anche un progetto più ampio da parte del Ministero che riguarda un altro corpus di opere da restaurare abbiamo inserito anche la Pietà della Misericordia che come vedo è stato frammentare piuttosto grave ma anche come ci aspettiamo che il miracolo si possa realizzare c'è fuori ovviamente il famoso fresco della Chiesa della Misericordia che è stato oggetto di uno spettacolare recupero alcune cose qualche tempo fa e che attualmente è conservato all'interno dell'Ambia dell'aeroporto di Rievi per cui ci sono in corso vari proposti di progetto con alcuni soggetti all'interno del Ministero istituzionale questo per dire che questo patrimonio fa parte di un'identità di cui parlava bene molto Carlo proprio portandoci proprio all'origine della parola dell'identità però un ricordo lo voglio fare anche io in quanto il patrimonio culturale mobile spesso e volentieri viene utilizzato molto più dell'archeologia per identificare che sono una comunità perché spesso e volentieri si parla anche di un patrimonio legato alla fede della comunità e qui che è fortemente identitario ma che cos'è l'identità? ho cercato di esprimere le parole povere l'identità è qualcosa che ci definisce tutti per capire chi siamo e dove andiamo è un fattore inclusivo ritengo che sia veramente un fattore inclusivo che non va interpretato con logiche campanilistiche per cui nell'orbita di una valorizzazione del patrimonio culturale di alcune non si potrà fare almeno di inserire anche quello di Amatrice quello di Amatrice e quello di Città Reale e quello di Città Reale fino a Riemi cioè da un'area che poi porti le persone a capirla di più a girare, a muoversi, a ricreare economia e in modo tale anche da ripopolare questo territorio meraviglioso e perché meraviglioso? proprio perché ha un punto di brusvalenza che è il paesaggio che è una cosa di cui si parla sempre molto poco ma il codice dei beni culturali lo definisce proprio come territorio espressivo di identità che è una cosa meravigliosa che comprende i beni culturali oltre che i beni naturalistici come eredità da tramandare e che è un patrimonio che si nutre di radici ecco, che tornano, no? l'assolazione radici a cumulese questo patrimonio si nutre di radici dove queste radici sono alimentate e si nutrono a loro volta dalla terra che è l'origine di tutto la causa di ogni cambiamento sociale e materiale ma pur sempre una che è ripetibile qui ha accumuli come altrove che rende affascinante per il momento questo nostro paese vi ringrazio